Torna all'appuntamento con Borgo in Fiore, iniziativa promossa dall'amministrazione comunale di Agropoli in collaborazione con la Proloco Sviluppa Agropoli e il Forum dei Giovani. La manifestazione, giunta quest'anno alla quarta edizione, rientra nell'ambito dell'iniziativa Comuni Fioriti. Le finestre, i balconi, i portoni, i vicoli e gli angoli più suggestivi del centro storico saranno allestiti con decorazioni floreali. Mercoledì 10 aprile alle ore 11.30 è in programma, infatti, la conferenza stampa di presentazione presso la Sala Giunta del Comune di Agropoli. Le iscrizioni al concorso potranno essere formalizzate sabato 13 aprile in Piazza Madonna di Costantinopoli oppure in alternativa presso la sede della Proloco Sviluppa Agropoli in via Pio X o telefonando al numero 345 5107 220 entro il 21 aprile. È fissata invece per il 1 maggio l'inaugurazione della manifestazione in Piazza Madonna di Costantinopoli, mentre la cerimonia di premiazione si terrà il 28 giugno prossimo. Come di consueto, ai concorrenti saranno assegnati dei cartelli numerati che dovranno essere esposti per tutto il periodo del concorso, in prossimità dell'area decorata. In questo modo i visitatori potranno ammirare gli allestimenti e dare la propria preferenza a quelli maggiormente graditi. Tre le categorie che saranno premiate con il premio Turista nel Borgo, Finestre Fiorite, Balconi e Scorci Fioriti e Portoni Fioriti. Sarà possibile esprimere il proprio voto entro il 28 giugno 2019 attraverso il sito ufficiale della Proloco www.prolocosviluppagropoli.it. Siamo giunti quest'anno alla quarta edizione del concorso Borgo in Fiore, affirma il sindaco Cadamo Coppola, promosso dall'amministrazione comunale con la collaborazione della Proloco Sviluppa Agropoli e il Forum dei Giovani. È il nostro personale omaggio alla primavera che esplode in tutti i suoi colori e profumi nel borgo antico della nostra città. Le decorazioni floreali prendono posto in vicoli scorci, finestre, balconi e portoni, abbellendo uno degli angoli più suggestivi della nostra amata Agropoli. È quel che è motivo di soddisfazione che da impegnarsi a migliorare il decoro della zona siano cittadini e commercianti, che ogni anno danno sfogo alla propria fantasia per donare un abito tutto nuovo alla zona. L'impegno viene puntualmente premiato, oltre che dagli apprezzamenti espressi dai turisti, anche dai risultati del concorso stesso. Dal 2006 ormai il nostro comune viene premiato con tre fiori su quattro, entrando di fatto nel circuito nazionale dei Comuni Fioriti d'Italia, organizzato dall'Associazione Produttori Floro Vivaisti. Solo due sono i comuni in campagna a farne parte, Agropoli e Minuri. Questo ci darà anche la possibilità di essere inseriti nella Guida Comuni Fioriti d'Italia 2019.